Collier Brahms contro Yusuf Hamza Pandolfi fino in fondo, Kevin conosce molto bene questo campo Kevin la sfida nel playmaking passa in fronte a Yusuf, può andare su se lo porta a casa immediatamente Yusuf Hamza sarà la Pandolfi in linea di fondo scarico per Collier Brahms sbaglia clamorosamente, c'è il tap-in a due battute di Madsburz Romero, attenzione al pick and roll eccolo qua un'altra volta Yusuf, due palloni, due schiacciate vuole il contropiede, Oder fino in fondo non puoi capire come va col tablet Pandolfi fino in fondo, difesa al legge Fatalamus, siasta sbaglia, buona difesa di Madsburz l'arbitro Cardone, no look bellissimo parte c'è il mismatch contro Yusuf stoppata, Romeo per Cardone stoppata al tabellone di Pandolfi parabola discendente, canestro buono se lo porta vicino al posto, scade il Collier Brahms a rimbalzo c'è il Collier Brahms, ancora stoppatone, ma non solo attacca l'Avis, supera la pressa Yusuf, mamma mia ancora Yusuf cosa di spettacolare modello Space J Pandolfi combatta a rimbalzo, mustiasta finger row, prova il giro, tiro realizzato il Pandolfi, tutto solo troppo solo, tira Manisi sul cubo dei gambi, la canata lontano la canata Angel Brett si riscatta con gli interessi passa la palla a Manisi da tre realizza Marco Manisi si trova sotto il canestro, può andare su, Andrea Manisi arresta il tiro ancora ragazzini del mini basket, grande difesa con lo show la recupera la canata, per Federico Romeo a tre la canata un giro un po' difficile per Angel Brett dall'angolo realizza Angel Brett ancora Angel Brett Yusuf può andare su la schiaccia ancora ma l'arbitro dice che sono passi Edwin, blocco di Collier Brahms Pandolfi, vola Canelso, bellissima l'esecuzione Mads Wurst prova la trivia è un long two Galabba, uno contro tutti, fino in fondo realizza Odair per Romeo, bella rimessa flash realizza Caetano attaccare in casa di R Marco Manisi la recupera Romeo bravissimo Caetano a canestro ah basta la palla a Caetano Romeo la ruba il fratello Federico è un furto casalingua amici sportivi assolutamente al tiro alla lunga la visce e poi realizza segna subisce il fallo Angel Brett Yusuf sta fino in fondo realizza si sblocca Vladislav Moustiassa si sbatte molto bene Moustiassa che realizza questa per Gaetano da tre, tutto ciolo dopo la bomba di Romeo Moustiassa prova la stessa produzione di Romeo anche lui cerca lo spazio va fino in fondo da due a reverti sbaglia schiacciata pitta Pipe trema tutto qua trema tutto non fatelo a casa un terremoto pazzesco ragazzi Angie, Angel Brett Thomas Burz linea di fondo Romeo contro Federico Arecettino in faccia dal fratello contro uno contro Cursiarello stoppato da Angel Brett linea di fondo Scialabba va su realizza due punti 38 da giocare ritorna in vantaggio la DR del presidente Fidelianotti dall'altra parte è pronto Moustiassa blocco di Yusuf Moustiassa step back realizza Vladislav Moustiassa Berenger Brett spreca la recupera Marco Manessi contro VDR Scialabba campo aperto Moustiassa la schiaccia Valter Manessi per Scialabba guarda per Federico Romeo tripla realizza Federico vediamo Romeo errato il passaggio la recupera Scialabba simbolo incontro che lo tallona Gaetano Scialabba Sbalba segna la palla si arrampia clamorosamente Romeo per Cursiarello ancora per Gaetano palleggia il macino Gaetano fino in fondo realizza Gaetano Collier Broms ora per Manessi ancora per Madsgurz Madsgurz uno contro uno da due realizza un gran canestro Kevin Pandolfi è rientrato Pandolfi scarico per Collier Broms è sul ferro ultimo giro di lancetta in questo terzo periodo Oder per Yusuf Montluca la canà si rinnova la sfida Yusuf segna e subisce il fallo ora per Federico Romeo blocco di Collier Broms Federico in palleggio Federico fino in fondo allenato alla passata stadione da Nino Sanfilippo coach di Angli da quest'annata attacca da Pandolfi la ruba Gaetano Romeo passa la palla Manessi arresto il tiro da due realizza Marco Manessi in palleggio contro due avversari la ruba il fratello palla per Mustiasta a schiacciare Federico Romeo passa la palla Salabba 7.35 da giocare bellissimo il passaggio da Salabba Manessi difende fortissimo Catano Romeo arresto il tiro di Manessi da due ancora ancora per Salabba Salabba finta di passaggio continua a palleggiare da due realizza intacca Collier Broms non c'è il backdoor Madsburg fa tutto solo Marco Manessi Marco Manessi in palleggio intelligentissimo passaggio per Jackson Collier Broms in ogni dove in ogni quando e come quando attacca Manessi per Salabba da tre realizza il bianco blu sbaglia Manessi sbaglia anche Collier Broms col Tapir dall'altra parte si imbora Vladislav Mussiasta blocco di Collier Broms Manessi per Pandolfi Pandolfi fino in fondo c'è un contatto segna subisce il fallo Kevin Pandolfi l'aerone esasperato magistralmente diretta dal fratello Giovanni attacca Mussiasta per Romeo ora per Odera ancora Mussiasta tiro a due secondi Giovanni Rugolo sportivamente dice ferma ferma ed è giusto così va in archivio il derby di Reggio Calabria è giusto